ciao a tutti sono ernestina dalla corte lucio e benvenuti a una nuova puntata di ernestina dalla fine del mondo eccellenze dolomitiche è giusto parlando di eccellenze dolomitiche oggi ci troviamo qui a sedico in provincia di belluno dove saremo nella premiazione di il premio dei bellunesi che hanno onorato la provincia di belluno all'estero quindi accompagnateci in questa puntata per scoprire la premiazione il premio nasce nel 2000 e da lì in poi ogni anno si onorano diverse persone che hanno saputo mantenere in alto i valori veneti e la grinta bellunese si è svolta sedico bellissima terra del bellunese che ha visto generazioni di concittadini emigrare in ogni angolo del mondo e che ha ospitato la ventiduesima edizione del premio internazionale bellunesi che hanno onorato la provincia in italia e nel mondo iniziò presso la mattina nella chiesa di santa maria annunziata dopo visitare il monumento delle migrante lì il nostro presidente dell'associazione bellunesi nel mondo oscar de bona e il presidente della provincia di belluno roberto padrin hanno lasciato dei bei fiori ricordando a tutti gli emigrati di sedico il corteo con i gagliardetti delle famiglie abm che partito dal monumento delle emigrati fino all'entrata della chiesa è stato anche integrato da altri importanti figure sindaci presidenti di famiglie bellunesi ed ex emigrati di rappresentanti del senato italiano regione veneto e anche con la visita dell'euro parlamentare rosanna conte a riceverli è stata la stampa locale e anche la banda comunale di sedico si dava inizio così ad una nuova edizione questo premio che ormai conta con 22 anni di vita organizzato dalla provincia di belluno associazione bellunesi nel mondo e i rotary club di belluno feltre cadore cortina prevede di solito tre riconoscimenti principali riservati bellunesi emigranti in italia nel mondo ai loro discendenti che mantengono vivo il legame con la terra delle radici e assegnato a personalità che si sono distinte nei seguenti settori economico imprenditoriale e professionale istituzioni arte e cultura sociale e solidaristico ma dalla ventesima edizione viste le scomparse di vincenzo barcelloni corte fondatore abm e dello storico direttore patricio de martin modolado l'associazione bellunesi nel mondo ha proposto di istituire il premio speciale barcelloni corte de martin modolado la cerimonia è stata presentata da michela da canale è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni e del volontariato del comune come di consueto la cerimonia è stata trasmessa sulle onde di radio abm voci delle dolomiti la nostra cara web radio dell'associazione bellunesi nel mondo vediamo ora chi sono stati i bravi bellunesi nel mondo premiati in questa edizione numero 22 del premio per il settore sociale e solidaristico il riconoscimento va a giuseppe laurea pinter nato belluno dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione in neurologia ha trascorso un periodo di formazione e ricerca presso il dipartimento di neuroscienze della john hopkins university baltimore usa e successivamente presso il centro di elettromiografia di controllo motorio del dipartimento di neurologia dell'università di barcellona direttore dell'unità operativa complessa neurologia 3 dal 2013 è direttore del dipartimento di neuroscienze cliniche del 2016 nel dicembre 2021 è stato nominato dal ministero della salute direttore scientifico della fondazione irccs istituto neurologico carlo vesta è professore universitario di neurologia dell'università degli studi di milano dal 2018 la sua attività di ricerca è focalizzata sulle patologie del sistema nervoso periferico dolore neuropatico e sla abbiamo avuto il piacere di parlare con il dottor laurea pinter sentiamolo insieme siamo qui con uno dei più prestigiosi premiati in questa nuova edizione del premio bellunesi nel mondo a cosa rappresenta per lei questa premiazione oggi che merito il mente vinto ma è un grande onore perché mi tiene vicino a questa provincia la città di belluno dove sono nato dove ancora vive la mia famiglia i miei fratelli sono i miei nipoti sono davvero molto felice ecco dottor laurea vuole dedicare un saluto per i belluni essi e veneti nel mondo che ci stanno sentendo lo faccio con grandissimo piacere ne ho incontrati alcuni quando stavano negli stati uniti e vi saluto tutti saluto anche soprattutto quelli che stanno alla fine del mondo in argentina dottore grazie mille grazie a voi poi per il premio speciale barceloni corte de martin modolado viene assegnato alla famiglia de betin sono stati presenti tutti i fratelli di betin francesco raffaele stefano e daniele loro sono i fondatori nel 1991 a santo stefano di cadore dello studio ingegneria architettura de betin associati nel 1993 dba group un'innovativa società di ingegneria dba group ha sviluppato nel tempo metodi esperienze e know how nella fornitura di servizi dell'ingegneria e di project e construction management in ambito civili impiantistico ed infrastrutturale dal 2005 ai servizi già offerti affiancato a quelli di asset and life cycle management correlati all'automazione di processi di gestione del ciclo di vita di opere di infrastrutture attraverso lo sviluppo di applicativi e piattaforme software web based una famiglia che sa onorare i valori del lavoro sacrificio perseveranza un esempio per tutti quelli che hanno la voglia di intraprendere un'attività con passione e speranza due ingredienti fondamentali abbiamo avuto il piacere di chiedere a daniele de betin cosa rappresenta per lui e la sua famiglia questa premiazione sentiamolo insieme cosa rappresenta per te per la tua famiglia anche questo premio che avete vinto oggi con tanto di merito è un premio siamo molto orgogliosi di questo premio perché in effetti la presenza degli italiani in italia noi poi abbiamo una parte importante della nostra impresa all'estero facciamo un 50 per cento del fatturato sugli 80 totali della società all'estero quindi venendo dalla montagna essendo dovuti partire andare a vedere il mondo è importante questo riconoscimento perché ci premia e ci dà un risarcimento delle fatiche che abbiamo fatto fino ad oggi quindi bello uscire noi siamo molto orgogliosi delle nostre radici torniamo volentieri sempre è sempre un punto di riferimento per noi perché ci aiuta a stare con i piedi per terra però è importante questo riconoscimento perché vuol dire che siamo un punto di riferimento e siamo molto soddisfatti ecco grazie a voi dedicare un saluto e bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo anche i veneti al mondo un saluto a tutti i bellunesi nel mondo mia mamma è stata immigrante in belgio tanti anni fa e quindi i nostri amici italiani nel mondo un saluto a tutti complimenti per tutto quello che facciamo ecco grazie daniele debetti grazie grazie per il settore economico imprenditoriale e professionale è stato premiato dario oliver nato a forno di soldo inizia giovanissimo a lavorare nella gelateria di famiglia a vitton la sua propensione interesse per l'attività artigianale del gelatiere lo porta ad associarsi all'uniteis associazione dei gelatieri artigiani in germania in uniteis si distingue per dinamismo competenza e passione e ricopre varie cariche tra cui dal 2012 al 2021 quella di presidente nel 2021 è stato nominato coordinatore della mig mostra internazionale del gelato e dal 2016 fa parte del consiglio d'amministrazione dell'ente longarone fiere la sua predisposizione per l'associazionismo e per le problematiche degli italiani che vivono all'estero l'ha portato ad avvicinarsi alla bm per il settore istituzioni arte e cultura il premio è stato assegnato a linda saset ea andrea daronc andrea daronc originario di sedico si è laureato in ingegneria aerospaziale al politecnico di milano oggi è professore associato in ingegneria aeronautica all'università di southampton una delle migliori università del mondo i contributi di daronc nel campo della ricerca aeronautica sono stati riconosciuti da vari premi il più importante dei quali è il riconoscimento dell'associazione americana di aeronautica ed astronautica le ricerche condotte della prof da ronc nel campo industriale hanno permesso di sviluppare metodi di calcolo ora usati da airbus capaci di ridurre il tempo costo di alcune fasi del progetto dell'ottanta per cento linda saset originaria di sedico si è laureata prima in biotecnologie sanitarie e successivamente in biotecnologie mediche nel 2015 si è trasferita a new york dove studia il ruolo di una particolare classe di lipidi gli spingolipidi nelle malattie cardiovascolari e nel diabete i suoi studi stanno aprendo la strada a nuove terapie per l'ipertensione anche quest'anno sono state ricordate le persone che hanno contributo notevolmente al mondo dell'emigrazione il doveroso riconoscimento alla memoria ha ricordato a giuseppe de on di belluno marino bez di longarone luciano celato di lucerna renato de paris di trichiana denis john secco di seren del grappa franco sponga di limana anna coletti di belluno gianni arboid di arsie debora geremia di taibona gordino rino d'alfarra di alpago giuseppe del molin di santa giustina don mario carlin di sedico camillo moro di trichiana giovanni corso di fonsasso e residenti in brasile hanno agliettato questa emozionante cerimonia il coro monti del sole e il corpo musicale comunale di sedico come vi avevamo anticipato la cornice di questo premio è stata la bellissima chiesa arcipretale di sedico che ha ospettato la ventiduesima edizione del premio internazionale bellunesi che è un onore alla provincia di belluno in italia all'estero in programma nella mattinata di sabato 26 novembre la decisione è stata presa in condivisione con il parroco don sandro in occasione del sopralluogo che il presidente abm oscar debona con il suo direttore marco krepats la segreteria del presidente della provincia di belluno lucia fenti il sindaco stefano de home e la vice sindaca gioia sacchette hanno fatto la scorsa settimana è stata scelta la chiesa di sedico le parole del presidente debona per la sua posizione strategica a tal proposito ringrazio don sandro per avere concesso senza nessuna esitazione questo luogo sacro verso la fine della premiazione abbiamo chiesto al presidente della provincia di belluno roberto padrin di raccontarci l'importanza di questa premiazione è come di consueto inviare un caro saluto ai nostri bellunesi nel mondo ci troviamo ora a sedico in questa nuova edizione dei premi che dei bellunesi che hanno onorato la provincia siamo col presidente della provincia di belluno roberto padrin presidente cosa rappresentano questi premi qui ma un atto di riconoscenza di gratitudine verso queste persone che sono partite da questa terra e hanno portato diciamo le loro conoscenze le loro capacità nel mondo e di cui noi siamo sicuramente profondamente orgogliosi quindi questo è un po un segno di riconoscenza nei loro confronti anche un po di esempio affinché partendo anche da un piccolo territorio come il nostro si riescono a realizzare grandi cose grazie grandi persone ecco grazie mille possiamo dedicare un saluto per i bellunesi e veneti nel mondo che ci stanno sentendo beh è sempre bello sapere che c'è qualcuno che ci vuole bene anche distante da questi territori quindi da parte mia un saluto di cuore a tutti bellunesi veneti e gli italiani nel mondo siete tantissimi ma so che voi un pezzo del vostro cuore lo avete qui nel nostro territorio ciao a tutti ecco grazie per ringraziamo il presidente padrin che ci dona sempre amabilmente un suo sentito messaggio cari amici oggi la nostra puntata finisce qui vi aspettiamo la prossima settimana se volete rivedere le nostre puntate potete cercarmi nelle reti sociali dell'associazione bellunesi nel mondo e anche sui miei social di facebook e instagram con il mio nome ernestina dalla corte lucio o anche sul mio canale youtube migranti tv vi aspetto intanto vi saluto non dalla fine del mondo ma da belluno arrivederci amici è come dice il nostro motto vicino e lontani mai soli ringraziamo inazio dalla corte lucio per la musica e il montaggio e patrizia lucio alla regia ciao